Molta condizione, molta concentrazione, paziente, quindi bisogna essere allevati anche mentalmente per poter patricare tutto il sport. Certamente. Anche ancora siamo sulle immagini di Martina e poi andremo con il video, il momento che tutti stanno attendendo finalmente a vedere il video realizzato dal team di Edoardo Storba, sì proprio lui, il famoso personaggio di Striscia alla Notizia che è un grande appassionato di questo sport, c'è una società di produzione televisiva che ha curato personalmente il video nei giorni passati qui in Valle d'Osta. Tra l'altro Carlo Attucci è stato insieme alla troupe durante le riprese, ricordiamo, sono stati tutti i comuni di Donnas, Isogna, Penis, Guarda e poi a Osta nelle sue località più caratteristiche. Lì vedremo tra l'altro, intanto adesso questo workout entra decisamente nel vivo, vedete l'esclusività dei colpi di Martina, tra l'altro che è una delle sue caratteristiche che è con le gambe e anche con i pulmoni, e poi sta per me decisamente nel suo lavoro. Tra l'altro, piccola moda di colore, non sta bene, Manuel e Martina sono compagni anche durante la vita di tutti i giorni, e questo apre uno spaccato molto interessante su quella che è la loro convivente, non volano i piatti, e volano proprio i battoni. Tra l'altro, non è ricordato che il comune di Donnas, stamattina la tua campionessa, ricordiamo